L'obiettivo è quello proprio di creare una comunità viaggiante, quindi di creare un gruppo che condivida dei valori, delle idee e non abbia paura di aprirsi l'uno con l'altro. Si chiama Memo4You, l'importante e positiva esperienza sviluppata all'interno di COME, comunità di memoria, progetto che ha come obiettivo la formazione di attività educative e di partecipazione rivolta ai giovani per aumentare la consapevolezza dei processi storici che hanno portato dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale all'unificazione europea. L'iniziativa Memo4You, finanziata dalla città metropolitana di Torino, nel mese di febbraio e marzo di quest'anno ha accompagnato ragazzi e ragazzi selezionati in collaborazione con i comuni sede di Antenne Europa a visitare il campo di sterminio di Auschwitz e Birkenau, l'ex ghetto nazista di Cracovia e il museo storico fabbrica di Oskar Schindler. Un'esperienza forte e profonda che è stata condivisa con le associazioni Deina e Spostiamo Maria Monti. Siamo tornati dal viaggio a Cracovia e abbiamo incontrato i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questo viaggio ed è stato molto emozionante vedere come loro a freddo dopo il viaggio hanno voluto condividere con noi quanto questo viaggio sia stato emotivamente importante ma anche da un punto di vista relazionale hanno costruito gruppo, si sono conosciuti, si sono incontrati, si sono confrontati e hanno cominciato insieme a pensare a un mondo nel quale possano fare la differenza. Siamo molto contenti perché questo era il primo viaggio organizzato con la città metropolitana un viaggio che è stato molto intenso, un percorso che è durato mesi nella preparazione precedente che ha coinvolto tutti questi ragazzi e queste ragazze nella provincia di Torino e speriamo che sia l'inizio di un percorso che durerà ancora molti anni. Grazie al progetto Memo4U abbiamo avuto la possibilità con i ragazzi di sentire storie e testimonianze storiche testimonianze appunto di sopravvissuti e nonne ma soprattutto abbiamo avuto la possibilità di sentire storie di persone che sono ancora vive e che fanno del bene come i giusti e le giuste fra le nazioni ed è importante raccontare quelle storie storie di persone che hanno scelto a un certo punto della loro vita di prendere una decisione e di fare del bene. Grazie a tutti.